Benvenuti Dandanovic Arici, in questo nuovo videone Dandanovic Arici, in questo nuovo videone vi parlerò del mio secondo canale, iscrivetevi al mio secondo canale, si chiama Non Stop News, Non Stop Music, scusate, si chiama Non Stop Music, Non Stop Music, quindi iscrivetevi, obiettivo 150 iscritti, iscrivetevi al mio secondo canale, che si chiama Non Stop Music, grazie per chi si iscriverà al mio secondo canale, obiettivo 150 iscritti, lasciatemi tutti i like e assoriamo 50 like, per un nuovo videone, su Non Stop Music, su Non Stop Music, e Dandanovic Arici, iscrivetevi, e spammate il mio video su Non Stop Music, spammate i miei video su Non Stop Music, spammate i miei video su Non Stop Music, e mettete anche il mio video su WhatsApp, sui vostri gruppi di WhatsApp, sui vostri gruppi di WhatsApp, potete mettere il mio video di Non Stop Music, e anche su Instagram, se volete, mettete un video mio, che ho messo su Non Stop Music, lo mettete su Instagram, lasciatemi tutti i like, assoriamo 50 like, iscrivetevi, e spammate i video che metto su Non Stop Music, e obiettivo 150 iscritti, da un nuovo videone, Dandanovic Arici! Dandanovic Arici!